Secondo lancio, via! Sì! Mi raccomando, non pareggiate un'altra volta. Se lo butti al primo, ti porti a casa delle bottine. Al secondo pareggi e la palla passa i vicesindaci. Bella idea, bella idea. Ragazzi, siamo pronti? Paolino è pronto, anche il comune di Spinone. Il primo non va, vediamo il secondo, se veramente... No! Vince, ufficialmente, il comune di Quarantanoro! In quanto tutti fatti in vicinità. E noi li guardiamo.